Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Allora, prima di iniziare la trasmissione vi ricordo i nostri appuntamenti che abbiamo fatto, che abbiamo stabilito praticamente il giorno 14 maggio, sabato 14 maggio, ci ritroviamo tutti qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 per il dibattito sullo scetticismo e il dibattito relativo al crogiolo dello Stragone. Praticamente sarebbe il dodicesimo dibattito ufficiale, tredicesimo, visto che abbiamo messo un altro dibattito e vi ricordo che i dibattiti in tutto, compreso il dibattito cappello, arrivano a 20 dibattiti sul crogiolo dello Stragone. Per cui il tredicesimo dibattito riguarda lo scetticismo, l'uso dello scetticismo perché dobbiamo mantenere lo scetticismo in relazione al sistema sociale nel quale viviamo, la qualità dello scetticismo, che cos'è lo scetticismo e parleremo anche quando lo scetticismo invece diventa vigliaccheria. Per cui verrà illustrato praticamente tutta la tecnica dello scetticismo come relazione fra l'uomo e il sistema sociale nel quale viviamo. Vi ricordo che dal punto di vista della stragonaria del paganesimo, l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza ad un dio pazzo cretino ed efficiente, ma è un essere che appartiene ad una specie che come tutte le altre specie della natura è divenuto nel corso di milioni e milioni di anni. Il sistema sociale in cui viviamo non è altro che l'insieme che si presenta al nuovo nato, un insieme che presenta tutta una serie di sollecitazioni, di presupposti morali, etici e anche di sollecitazioni fenomenologiche e costringono il nuovo nato ad adattarsi e costruire le sue strategie di esistenza. Il dibattito di sabato 14 maggio andrà a illustrare la tecnica dello scetticismo. Altro appuntamento è per sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro di Jesu dove terremo il rito del sostizio d'estate. Chi ha già partecipato ai riti sa esattamente di cosa riguarda, su internet trovate sia le modalità di esecuzione del rito sia le sequenze fotografiche di riti precedenti, praticamente questo rito sarà uguale. Poi vi ricordo altri appuntamenti che sono meno nostri, cioè il nostro è l'appuntamento suo in Belgio relativo ad Anversa, relativo al Congresso Mondiale delle Regioni Etniche che terremo l'8, il 9 e il 10 di giugno. Cinque persone andranno ad Anversa in pratica come rappresentanti della Federazione Pagana. Altri appuntamenti è il referendum sulla fecondazione assistita che si tiene in giugno e la purtroppo così tutto ricadrà sulle spalle di Francesco e di chi resta chiaramente. E poi c'è l'8 per mille, mi raccomando, firmate per lo Stato. Non date soldi alla Chiesa Cattolica. Detto questo, annuncio anche una novità, grazie all'iniziativa di Francesco abbiamo fatto l'acquisto chiaramente d'arbitrio della prima statua che riguarda l'altare pagano a Iesolo. Cioè quest'altare pagano che dobbiamo sempre costruire, che probabilmente rimarrà esattamente com'è, sarà abbellito da statue, a mano a mano che riusciremo ad acquistarle e a installarle. La prima statua che è stata acquistata d'arbitrio da praticamente i fondatori della Federazione Pagana ed è la nicche di Samotraccia. C'è la statua che abbiamo deciso per primi, in tutte le opzioni che c'erano offerte abbiamo scelto la nicche di Samotraccia. Per cui la nicche di Samotraccia sarà la prima statua che metteremo sul luogo dell'altare pagano presso il Bosco Sacro di Iesolo. Noi speriamo che la statua arrivi prima del sostizio d'estate, prima del rito del sostizio d'estate e di poterla installare, di poterla mettere proprio anche e consacrare proprio il giorno del sostizio d'estate. Vi ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito la trasmissione. Per cui anche se i telefoni sono rimasti accesi non verrà risposto. Questa è la novità, diciamo così, che è stata fatta oggi. Naturalmente l'occasione fra l'uomo ladro, cioè nel senso che l'insistenza di Francesco è andare dove le facevano, comunque un posto dove le forniva e il prezzo relativamente basso, la buona possibilità accolta al volo e serve anche a rompere un po' il ghiaccio e a presentare un po' quello che si sta facendo come progetto. Naturalmente è un'azione di arbitrato, è un'azione fatta di arbitrio rispetto all'insieme della Federazione Pagana, però vi ricordo che il progetto finale è di quattro statue ai quattro angoli praticamente dell'altare pagano che verranno installate. Per cui c'è posto ancora per altre tre statue nel progetto che per il momento è in atto e questa è la prima. Mi sembra che la nicche di Samotraccia sia molto indicativa e molto significativa per definire un paganesimo, un paganesimo che appartiene a tutta la storia delle popolazioni antiche ed è un paganesimo che si proietta nel futuro. Stasera vi leggerò fra le altre cose un significato della contraposizione che c'è stata fra quel criminale che è Ambrogio di Milano e Simmaco. Ebbene, la supplica di Simmaco è iniziata proprio perché si è voluto levare dal senato romano la statua della vittoria. La statua della vittoria che è molto simile alla nicche di Samotraccia, che non sarebbe altro che Roma, sarebbe altro che Venere, sarebbe altro che un misto di quelli che sono le antiche religioni. Ebbene, diciamo che la nicche di Samotraccia installata sul Bosco Sacro rappresenta la continuità con quello che è stato gli ultimi episodi di esistenza del paganesimo e gli ultimi vagiti, diciamo così, dell'antico paganesimo che stava per venire distrutto da quello che è il cristianesimo che avanzava con tutta la sua violenza e con tutto il suo orrore. Penso che dal mio punto di vista è la miglior cosa che potevamo scegliere. Naturalmente esistono ancora tre scelte che possono essere lasciate ai membri della Federazione Pagana. Ci vorrà un mese circa perché arriva, cioè ci hanno pronosticato un mese perché arrivi. Quindi, diciamo che pensiamo di poterle installare già prima del rito del sostizio d'estate. Bene, allora, nella trasmissione di oggi parleremo del discorso del relativismo. Non cediamo al relativismo, diceva Ratzinger. Allora, è interessante perché il discorso viene fatto da Ratzinger prima che Ratzinger entri in conclave. In pratica cosa dice Ratzinger? La piccola barca dei cristiani, Ratzinger la dipinge, agitata dalle onde, gettata da un estremo all'altro. Sono onde maligne e paurose, piene di ismi, marxismo, liberalismo, libertinismo, collettivismo, individualismo radicale, ateismo, misticismo vago, relativismo aggressivo. Soprattutto quest'ultimo è il nuovo dragone da combattere. Si va costituendo una dittatura del relativismo, scandisce Ratzinger con il suo accento preciso incalzante, che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Questa faceva parte dell'Omelia di Ratzinger, riportata dalla Repubblica del 19 aprile 2005 e fa parte del manifesto con cui Ratzinger si presenta in conclave per essere eletto Papa. Che cos'è questo relativismo? Cominciamo innanzitutto, chi fa certi disegni e certi scherzi qui a radiogramma dovrebbe essere preso a calci in culo. Adesso ho visto il foglio, ho strappo, lo butto e certe cose non si fanno perché sono in sé delle provocazioni. Allora, che cos'è innanzitutto il relativismo? Allora, il relativismo non è altro che una definizione vaga che non ha nessun fondamento reale, cioè non ha nessun fondamento della storia, che ti dice che tutto è relativo. Qual è il significato inverso del relativismo? È l'assolutismo, è il dogma. Cos'è la Chiesa Cattolica? La Chiesa Cattolica ha la verità assoluta. La verità assoluta che è dovuta dalla rivelazione del patto di Nazareth, che è dovuta dalla rivelazione del suo dio assassino. Il dio assassino e il patto di Nazareth sono per la Chiesa Cattolica la verità assoluta. E dalla verità assoluta, annunciata dal macellario di Sodoma e Gomorra dal patto di Nazareth, deriva tutta la politica e tutti i dogmi della Chiesa Cattolica. In quei dogmi e in quella politica là l'uomo arriva. L'uomo viene educato in quei dogmi e a quei dogmi si ferma. Questa è la verità assoluta. Che cos'è invece il relativismo? È che tutto è relativo, cioè tutto è limitato alla capacità della persona di relazionarsi col mondo in cui vive. Non esiste una verità assoluta, attenzione, come verità assoluta non diciamo la ricerca del vero, ma non esiste la verità, cioè ciò che ti blocca nel tuo cammino di trasformazione, ma esistono tante interpretazioni della realtà, quanti sono i singoli individui e la loro capacità di penetrare e di interpretare la realtà in cui vivono. Cioè la realtà assume tanti aspetti e tante definizioni, quanti sono i soggetti che descrivono quella realtà. Per cui, che cos'è che fa paura alla Chiesa Cattolica in questo momento? Cioè fa paura che l'uomo, il singolo individuo, non si immedesimi con l'enunciazione del macellare Sodome Gomorra o del pazzo di Nazareth, ma che tenti di penetrare il mondo, che tenti di penetrare la realtà in cui vive e da questa realtà si formi i propri giudizi, si formi il proprio modo di essere, si formi il proprio modo di rappresentarsi nella vita. Perché per la Chiesa Cattolica questo è un grande nemico? Perché chiaramente le persone non vengono più costrette nella sua verità, ma ogni persona va a cercare la propria verità in base ai propri bisogni, alle proprie esigenze, al proprio modo di porsi davanti al mondo. Le persone non possono più essere condizionate mentalmente, alle persone non possono più essere fatti lavaggi delle cervelle, alle persone non possono più essere manipolate mentalmente per essere costrette nella sua verità, ma a ogni persona devono essere forniti i mezzi affinché lei stessa si costruisca la propria verità del mondo, la propria realtà, la propria percezione della propria esistenza. E questo è la cosa più peggiore che il cristianesimo, all'Islam, all'ebraismo possa succedere, perché si nega il fatto che esista una sola interpretazione della realtà in cui viviamo, ma esiste un numero infinito di sfaccettature. Cos'è la dittatura del relativismo? Non esiste una dittatura del relativismo, perché se tutto è relativo, non esiste nessun assoluto cui piegare le persone. Dunque non può esistere nessuna dittatura del relativismo. Esiste la necessità di respingere ogni verità rivelata. Cioè ogni verità rivelata diventa un'offesa alla società civile, agli uomini, ai popoli, perché ogni uomo, ogni popolo, ogni insieme di persone ha il diritto di penetrare la realtà in cui viviamo e ha il diritto di considerare migliaia di verità o migliaia di sfaccettature e magari di scegliere quelle che più si confanno alla sua psiche, alla sua esistenza, al suo modo di essere. A questo punto non esiste più una gerarchia, non esiste più colui che ti dà la verità assoluta, ma esistono invece tanti strumenti con cui si va ad affrontare la realtà in cui viviamo. Per esempio il nostro crogiolo dello stragone, di cui parliamo. Il crogiolo dello stragone non è altro che un insieme di strumenti che servono alle persone per affrontare la realtà in cui vivono, per vivere nella realtà, per affrontare l'insieme della loro esistenza. Il crogiolo dello stragone dunque non dà nessuna verità alle persone, ma dà degli strumenti alle persone e le persone possono utilizzare come vogliono quegli strumenti. E' questo che fa effettivamente paura alla Chiesa Cattolica, cioè non poter più imporre la propria verità. Ora, questo discorso fu un discorso fatto da Ratzinger prima di essere eletto Papa. Ma non sono solo io che afferro questo. Attenzione, quel discorso potrebbe apparire come un'esigenza della Chiesa Cattolica. Cioè, la Chiesa Cattolica comprende che ormai il mondo sa benissimo che la creazione è una balla, sa benissimo che la Bibbia è una balla inventata, sono delle operazioni politiche pure e semplici. Il mondo sa benissimo che il pazzo di Nazareth non è mai esistito. Il mondo sa benissimo che è tutta una frottola, che non esiste un inferno né un paradiso. Il mondo sa benissimo che è tutta una balla, però diciamo la Chiesa Cattolica dice per noi però questo è vero, una verità di fede e noi come verità di fede chiaramente abbiamo il diritto di dire ciò che noi crediamo. Il vero problema non è il fatto che la Chiesa Cattolica non abbia il diritto di dire io credo in queste cose che io ritengo delle stupidaggini. La Chiesa Cattolica ha il diritto di crederci e la Chiesa Cattolica ha il diritto di professarle. Non è questo che si mette in discussione. Ma quando la Chiesa Cattolica dice questo, cosa c'è sotto? E per sapere cosa c'è sotto, noi andiamo a leggerci un pestetto di un articolo di Eugenio Scalfari che appare sulla Repubblica del 21 aprile 2005. Proviamo a sentire cosa dice Scalfari. Due aspetti del pensiero di Ratzinger mi hanno profondamente colpito. Li ricavo dall'intervista che rilasciò a Marco Politi pubblicata su Repubblica del 19 gennaio 2004. Il primo aspetto riguarda il rapporto tra il diritto e la morale. Da un uomo di Chiesa e di elevata spiritualità mi sarei aspettato la tesi che la morale crea il diritto. Invece no, è vero e contrario. Il diritto crea la morale o una forma di morale perché la gente normale comunemente ritiene che quanto afferma il diritto sia anche moralmente lecito. Questa affermazione è molto importante e anche molto grave. La gente normale, nel pensiero del nuovo Papa, è dunque talmente debole e sprovveduta e irresponsabile che costruisce la propria morale sulla base di una legge e dunque di quanto statuisce il potere politico. La tesi è ancora meglio spiegata da un altro passo di quell'intervista. L'uomo d'oggi è manipolabile dal mercato, dai media, dalle mode. Il problema è che oggi la religione e la morale sembrano appartenere solo alla sfera del soggetto. Di conseguenza, la religione perde peso nella formazione della coscienza comune. Che cosa si ricava da un pensiero così pessimistico della natura umana che fa dipendere l'etica dal diritto e dalla manipolazione dei media? Si ricava che la Chiesa, per opporsi a questa deriva, deve utilizzare a sostegno della fede e della sua morale il diritto e gli strumenti che servono a manipolare le coscienze e a guadagnarne l'adesione. È stupefacente che sia questa la convinzione del nuovo capo della Chiesa. Qui però non è una questione interna alla Chiesa, ma chiama in causa credenti e non credenti nella stessa misura. Osservo a tale proposito che gran parte del precedente pontificato ha usato a piene mani il mondo mediatico e in questi ultimi mesi poi lo strumento mediatico si è messo dal servizio della Chiesa senza eccezioni di sorta e senza usare il dovuto distacco. Abbiamo più volte ascoltato conduttori televisivi e cronisti asserire che lo Spirito Santo stava guidando le scelte del Sacro Collegio come se si trattasse di una oggettiva notizia. Ecco perché la Chiesa reclama uno spazio pubblico per le sue esternazioni, non soltanto la diffusione che nessuno ha mai ostacolato, al contrario, della sua dottrina e della sua morale, ma la garanzia che ciò avvenga in uno spazio pubblico nella scuola pubblica, nelle leggi dello Stato e nella gestione dettagliata delle consultazioni referendarie quando esse vertano su controverse questioni di bioetica. Allora, cosa ci dice in pratica Scalfari? Scalfari ci dice chiaramente che ha capito perfettamente cosa sta dicendo Ratzinger. Ratzinger vuole imporre la religione cattolica mediante le leggi. Ricordiamo che Ratzinger è un inquisitore. Ratzinger è l'erede di chi bruciava vive le persone. Ratzinger è colui che infilava nel cuo delle donne i ferri roventi per fargli dire che erano delle streghe. Ratzinger è un criminale proprio per le scelte politiche, per il ruolo che aveva nella Chiesa cattolica. Ed è l'erede di tutti i criminali che lo hanno preceduto, da Torchemada a tutti gli altri. Pertanto Ratzinger ha una sola idea in testa ed è quella di imporre la sua religione attraverso leggi. Come se non fossero fatte già molte leggi a favore della Chiesa cattolica. Ma sembra che queste non siano assolutamente sufficienti. Sembra che ci siano delle altre cose che questo personaggio voglia in assoluto. E vuole imporre chiaramente il terrore. E questo è evidente nelle sue esternazioni. D'altronde ha avuto in mano praticamente tutti i rapporti con cui si sapeva i cardinali che cosa facevano e li ha tutti ricattati uno a uno. Poi hanno pochi cardinali da esternare le loro cazzate. Sono delle cazzate vere e proprie. In realtà Ratzinger col suo ufficio lui sapeva tutte le abitudini e tutti i vizietti di ogni cardinale. Per cui si era già preparato la sua elezione. E il problema è che le sue esternazioni le vuole imporre mediante leggi. Pertanto preparatevi perché questi stanno preparando qualcosa di grave per il sistema sociale in cui viviamo. Io mi auguro che il laicismo sia alle porte. Proviamo un attimino a capire che cos'è ancora questo relativismo. Per capire da dove la crisi del mondo attuale nasce per alcuni dalla perdita dell'assoluto e della fede. Cioè il valore assoluto, la verità assoluta che viene spacciata agli uomini. Ebbene, c'è un articolo sempre sulla Repubblica ed è del 26 aprile 2005 che si intitola Relativismo, la malattia di noi moderni ed è a firma di Giovanni Filoramo. Che cosa comporta? Attraverso quale sapienza ciascuno di noi arriva alla verità? Non è possibile pervenire per un unico cammino e a un mistero così sublime. Potrebbero sembrare un manifesto del relativismo religioso ma in realtà queste celebri parole sono state pronunciate dal senatore pagano Simmaco nel 384 d.C. in un discorso in difesa dell'altare della vittoria inutilmente rivolto al vincitore del conflitto che aveva a lungo posto pagani e cristiani il vescovo Ambrogio. Proviamo a ripetere le parole di Simmaco Che cosa importa? Attraverso quale sapienza ciascuno di noi arriva alla verità? Non è possibile pervenire per un unico cammino a un mistero così sublime. Questo diceva Simmaco. Ma esiste veramente un relativismo religioso? Non sono in fondo le religioni tutte le religioni senza eccezioni assolutiste in quanto basate su di una fede che per quanto aperta e dialogante con la ragione alla resa dei conti finisce per subordinare la seconda alle esigenze della prima? La risposta di Simmaco che parlava a difesa di una fede religiosa ben precisa il politeismo del mondo religioso talo antico come lo viveva l'elita aristocratica del tempo sta lì a ricordarci che la realtà almeno dal punto di vista storico è più complessa invece di assumerle come più volte è stato fatto in modo alquanto anacronistico come un manifesto della tolleranza caratteristica del politeismo pagano contro all'intolleranza tipica del monoteismo cristiano esse vanno lette come una testimonianza della possibilità del relativismo religioso con esso si intende una prospettiva che riconosce come fa Simmaco il pluralismo delle vie che recano alla e si dipartono dalla verità ritenuta il fondamento della propria fede queste vie possono essere pratiche ma possono essere e di fatto sono state anche teoriche esse si scontrano e si dipartono su di un punto fondamentale il problema della verità e per converso della falsità della propria religione dei modi di rappresentarla diffonderla e difenderla ma prima ancora di interpretarla e di contrapporla alla verità falsità degli altri dal punto di vista di ogni religione non sono in fondo istintualmente pagane le altre religioni che come dal punto di vista di ogni civiltà appaiono barbari le altre la linea discriminante in altri termini dipende dalla capacità di costruire barriere più o meno flessibili fra la propria e l'altrui religione tra l'io della nostra fede e il noi rappresentato dalle altre religioni e dalle culture e civiltà in cui esse si incarnano e di cui costituiscono una linfa vitale vi sono religioni come i politeismi antichi che hanno costruito linee di confine flessibili si potevano combattere in nome della ragione di stato gli dèi dello stato avversario ma essi non erano falsi erano divinità con nomi e forme diverse che al fondo rimandavano una realtà comune fenomeni largamente diffusi e tecniche largamente praticate come l'interpretatio greca e latina secondo la quale una stessa divinità assumeva nomi differenti in differenti regioni sicché come insegna il caso romano era possibile annettersi con i popoli vinti anche i loro dei purché debitamente reinterpretati sono a loro modo una tipica forma di relativismo religioso il nome di un dio poteva essere tradotto nel nome di un'altra divinità Zeus Jupiter Afrodite Venere e così via questa traducibilità significava permeabilità tra i diversi sistemi religiosi né garantiva l'internazionalità favoriva il cosmopolitismo né esso è specifico dei politismi antichi dal momento che è possibile ritracciarlo anche in altri contesti storico-religiosi seppur in situazioni eccezionali e condizionate in modo decisivo da aspirazioni politiche universalistiche sulla base di presupposti religiosi diversi da quelli tipici dei politeismi antichi un caso esempio esemplare è quello di Asoka della dinastia Maurya uno dei più grandi sovrani dell'India antica salita al trono verso il 270 avanti Cristo e che regnò per circa 30 anni su un territorio vastissimo comprendente quasi tutto subcontinente indiano come si evince le sue famose ditti su roccia e le onora tutte le confessioni rispettandole le differenti vie ogni occasione è opportuna per onorare la confessione altrui così facendo uno fa crescere di molto la propria confessione e rende servizio alle altre chi fa diversamente danneggia la propria confessione e rende servizio alle altre è il convenire insieme che è bene cioè che gli uni prestino ascolto al Dharma alla legge degli altri e la rispettino questo tipo di religione non è certo scomparso con la scomparsa delle religioni antiche il genio del paganesimo come ebbe a definirlo Max Auger in polemica contrapposizione con il genio del cristianesimo continuava a vivere nelle culture tradizionali per cui a partire dalla conquista entrarono in contatto da prima i missionari cristiani in seguito quelli protestanti nel caso delle missioni cattoliche che la traducibilità si applicò ai santoriali e alle figure intermedie di intercessione a cominciare dalla Vergine e così via e così via e così via praticamente il concetto antico di religione era un concetto relativo cioè non c'era una visione assoluta delle antiche divinità ma le antiche divinità erano presenti in ogni contesto culturale e ogni contesto culturale le avvertiva le individuava e nell'individuarle gli attribuiva un nome un nome che appartiene a quella cultura per cui da onorare come nome da onorare all'interno di quella cultura ma che è avvertita come presenza in ogni altra cultura quella che era quella che è giunone è avvertita in tutte le antiche culture perché in tutte le antiche culture c'era un amore per la natura c'era un'adesione totale per il mondo che ci circondava c'era l'interazione totale fra l'uomo e il mondo che ci circondava e ogni cultura chiamava l'essere natura in maniera diversa perché? perché era la sua lingua perché era il suo modo di parlare perché era il suo modo di porsi alcune culture avevano il cavallo metti le culture della steppa non avevano bisogno di molto denaro per mantenere i cavalli per cui avevano una grande considerazione del cavallo anche a Roma aveva una grandissima considerazione del cavallo ma una cultura cittadina ha più spese per mantenere un cavallo che non una cultura della steppa per cui il cavallo è visto e percepito in maniera diversa da una cultura all'altra ma sia la cultura di Roma sia la cultura della steppa percepivano quello che era l'anima quello che era la forza quello che era il flatto divino del cavallo il flatto divino degli animali e ognuna ogni cultura aveva questa divinità che si riferiva ai cavalli come ogni cultura aveva una divinità che si riferiva al lupo perché era lo spirito del lupo in realtà e così via per l'acqua così via per tutti gli animali per tutti i fiumi per tutti i boschi che c'erano per tutti gli alberi stessi erano divinità incarnate erano rappresentazioni del divino e non era importante il nome con cui veniva chiamata ogni cultura sentiva che il mondo attorno era un mondo vivo era un mondo pulsante di intelligenza un mondo pulsante di progetto per questo nelle antiche religioni ciò che imperava era era il discorso dell'interpretazione quando i romani conquistavano i galli conquistavano i celti non dissero voi dovete adorare Giove voi dovete adorare Minerva ma nelle divinità dei celti individuarono chi era Minerva chi era Zeus chi era Venere chi era Mercurio e li individuarono attraverso gli attributi che i popoli diversi attribuivano a questa o a quella divinità per cui non avevano bisogno di imporre la religione romana ai galli i galli già avevano la stessa religione di Roma che chiamavano in maniera diversa con nomi diversi che poi fra popoli si massacravano si sterminavano per conquistare questo o quello quello è un altro discorso non lo facevano per imporre il Dio soltanto il monoteismo arriva e impone la sua verità assoluta il suo Dio assoluto e macella tutti gli altri per imporre il suo Dio assoluto per praticare il lavaggio del cervello e la manipolazione mentale delle persone solo il monoteismo arriva a far questo mentre invece prima questo non era mai avvenuto perché perché l'assoluto per i pagani non sta nel modo in cui io chiamo le cose ma nelle cose in sé ma le cose in sé si rappresentano a me in sé solo che io le leggo per ciò che riesco a leggere per ciò che riesco a comprendere pertanto il nome che do io alle cose fa parte della mia comprensione delle cose non delle cose in sé pertanto chiunque qualunque popolo ha in sé il concetto della bellezza e ogni popolo dà un nome esprime una descrizione della bellezza dà degli attributi alla bellezza ma il concetto in sé di bellezza è proprio di ogni di ogni popolo non esiste un popolo che non abbia un concetto in sé della bellezza magari una cultura si può allontanare da un'altra dicendo a me quel concetto non corrisponde ai miei canoni non è che non sia un concetto di bellezza per cui è lo stesso concetto di afrodite il stesso concetto di amore il stesso concetto di contraddizione lo stesso concetto di distruzione lo stesso concetto di costruzione sono tutti percepiti da tutti i popoli in maniera diversa ogni popolo gli dà degli attributi gli dà della descrizione questo è il relativismo non è che non esista la vita la vita espressa dalle specie espressa dai singoli esseri è un valore assoluto è una realtà assoluta nessuno di noi mette in discussione questo ma è come noi come ogni singolo soggetto si rappresenta la vita o ciò che lui considera importante all'interno della vita che sono degli attributi invece relativi per cui il relativismo non è dato dagli oggetti in sé stessi del mondo ma è dato dalla capacità soggettiva di ogni singolo essere di interpretare di un singolo individuo di interpretare gli oggetti del mondo e anche se l'interpretazione è diversa alla fin fine se noi riusciamo a comprendere qual è il meccanismo quali sono i bisogni quali sono le tensioni che ci hanno portato a interpretare le cose in quel modo ogni popolo ogni diversità religiosa riesce a integrarsi dove è che un'entità religiosa non si integra laddove esiste una religione che è la portatrice della verità cioè è portatrice di quell'assoluto al quale deve piegare deve costringere gli uomini in ginocchio e deve assoggettare le persone la distruzione dell'uomo la costruzione dell'uomo in ginocchio è quella che determina la conflittualità fra una religione e tutte le altre infatti quando il cristianesimo è nato prima ancora che si chiamasse il cristianesimo non si è messo a macellare persone cioè sono state decine e decine di città distrutte centinaia di migliaia di persone distrutte e Roma antica non aveva capito che quella distruzione era dovuta ai cristiani e non tanto agli ebrei si parla come guerre ebraiche in realtà furono guerre di quelli che aspettavano la fine del mondo l'avvento del messia guerre messianiche che hanno portato centinaia di migliaia di morti c'erano intere isole dove un ebreo non avrebbe potuto sbarcare nemmeno in caso di naufragio della propria nave tant'erano le stragi che avevano apportati certo erano cristiani si spacciavano come ebrei dopo il 70 dopo che Roma ha deciso proprio di radere al suolo al suolo Gerusalemme gli ebrei elaborarono una maledizione per i cristiani perché in realtà tutta la guerra con Roma tutta la guerra con Vespasiano prima e Tito dopo era stata voluta da quelli che erano i zeloti gli apocalittici cristiani che erano quelli che aspettavano l'avvento del messia che non erano altri e quelli che dopo daranno via il cristianesimo cioè fin dall'origine il cristianesimo macellava gli altri fin dall'inizio perché? perché doveva imporre la propria verità tanto di lì a poco sarebbe finito il mondo il pazzo di Nazareth sarebbe venuto dalle nuvole alla destra del padre mentre le stelle cadevano sulla terra tanto valeva macellarli tanto valeva macellare i popoli che vi serve di essere ricchi o tanto sta arrivando la fine del mondo e dopo duemila anni le persone sono state fottute sono state fregate ed è questa la perversione in realtà che si manifesta all'interno della vita delle persone purtroppo le religioni assolute hanno sempre portato morte e risoluzione e ancora oggi vediamo con Ratzinger Ratzinger propone di usare le leggi per imporre la propria religione ed è un'altra cosa gravissima ed una gravità enorme d'altronde Zappatero in Spagna ha già dimostrato che qualora lo Stato costruisca le proprie libertà e decida di essere se stesso in base ai propri principi non c'è cattolicesimo che tenga il cattolicesimo batte in ritirata non c'è niente da fare perché i valori i valori per la vita degli uomini i valori portati dalle nostre costituzioni della nostra costituzione nel nostro caso specialmente la costituzione europea sono infinitamente al di là di ciò che è il cristianesimo il cristianesimo è solo un modo per macellare gratuitamente le persone per fare il lavaggio del cervello i bambini per costringere le persone in ginocchio proviamo un attimino a leggerci un'altra cosa visto che ho qualche minuto di tempo cercherò di leggere qualcosina rispetto a un altro articolo di Roberto Feista sempre sulla repubblica del 26 aprile 2005 dal titolo le nostre verità esposte al fallimento intervista al filosofo americano Richard Rorty chiede l'intervistatore Richard Rorty il papa mette in guardia contro la dittatura del relativismo cosa ne pensa? per Benedetto XVI il termine relativismo ha un significato simile a quello di conseguenzialismo cioè si decide che la moralità di un'azione sulla base delle sue conseguenze quindi un atto è accettabile se contribuisce alla felicità umana inaccettabile se la danneggia è ciò che un tempo definivamo utilitarismo il papa sa molto bene che il conseguenzialismo mina le fondamenta alla sua autorità perché sottrae alla chiesa il potere di decidere della moralità o meno di un'azione l'autorità morale della chiesa ha senso soltanto se ammettiamo che esista qualcosa di intrinsecamente immorale proibito a prescindere dalle sue implicazioni per la felicità umana se il relativismo venisse universalmente accettato la chiesa scomparirebbe ecco perché il papa vi si oppone molto del suo lavoro filosofico è invece dedicato proprio a quel relativismo pragmatismo che la chiesa oggi combatte perché risponde perché l'idea di verità ha senso in campo scientifico ma è molto dubbio in campo filosofico come ha detto Cicerone ci sono tante opinioni quanti sono i filosofi in filosofia ci si deve concentrare soprattutto sui processi di giustificazione sulla loro presenza o assenza piuttosto che sulla questione della verità o falsità l'unico modo per decidere se una proposizione è vera è capire se è giustificata ci sono verità che puoi giustificare nel sistema di Newton ma non in quello di Aristotele in quello di Einstein ma non in quello di Newton e così via cosa vuol dire tanto per capirci verità che sono giustificate cioè in pratica in filosofia una verità non deve essere oggettiva cioè nel senso non deve essere sperimentale come avviene in fisica perché un'asserzione sia vera deve funzionare per gli uomini nella vita quotidiana se io dico costringere i bambini a pregare è un'infamia è un atto criminale perché questo manipola la loro coscienza e la loro consapevolezza io questo lo devo giustificare nello stesso tempo chi costringe i bambini in ginocchio a pregare deve giustificare il suo atto in funzione della felicità e del divenire dell'uomo se non giustifica il suo atto in funzione della felicità e del divenire dell'uomo costringere i bambini a pregare è un falso nel senso che è una malvagità se io riesco a spiegare che ripetere continuamente quelle frasi attraverso la sottomissione porta ad un incidente alla struttura emozionale della persona come la psicologia come la psicanalisi ha già dimostrato e come la manipolazione mentale messa in essere dai cristiani già è stata dimostrata che porta alla manipolazione mentale porta a gravi danni psichico emotivo dei ragazzi la mia è una verità perché è ampiamente giustificata come asserzione cioè è dimostrata come funzionale al divenire e alla felicità dell'uomo questo è in filosofia ciò che si giustifica e ciò che non si giustifica noi non potremmo mai misurare in filosofia le idee come potremmo misurare la caduta di un gravo attraverso l'effetto di un grave attraverso l'effetto della gravità e non potremmo neanche misurare la quantità di galleggiamento dato il volume di un solido immerso nell'acqua questi sono parametri che appartengono alla fisica non sono parametri che appartengono alla filosofia alla filosofia bisogna dei suoi parametri cioè i parametri di giustificazione in funzione della vita dell'uomo pertanto le asserzioni in filosofia sono vere o sono false se queste sono in funzione della vita dell'uomo infatti se voi notate in queste trasmissioni quando io parlo della religione pagana politeista non vi ho mai detto credete in me non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere ma ho sempre giustificato ho sempre affermato quello che ho detto e quello che ho detto l'ho sempre inserito all'interno dei termini di vita delle persone perché? perché le asserzioni vanno giustificate cioè bisogna giustificare quello che si dice e il parametro di giustificazioni sono le condizioni di vita dell'uomo se noi perdiamo di vista quelle che sono le condizioni di vita dell'uomo andiamo a imporre a evocare una verità ma non andiamo a manifestare una libertà e questo è contrario alla religione pagana politeista vediamo ancora un'altra affermazione domanda intervistatore ciò significa togliere la filosofia il suo ruolo di indagine sui principi ultimi dell'esistenza risposa significa che la validità di un'idea deve essere misurata dalla sua utilità dalla sua capacità di affrontare un problema dato non dalla corrispondenza a qualche verità antecedente ogni giustificazione è sempre relativa a un certo tempo e luogo è un prodotto sociolinguistico che non si pone come riproduzione fedele di una realtà esterna in questo senso ogni verità filosofica va storicizzata per esporne la contingenza chiede ancora l'intervistatore questa contingenza è esattamente ciò che fa paura oggi dentro e fuori la chiesa è una contingenza che secondo alcuni intacca anche i pilastri ideali universali della società occidentali cosa risponde a questa contestazione rispondo che è molto facile parlare di astrazione come libertà eguaglianza e fraternità nessuno è disposto a mettere in dubbio la bontà e la grandezza i problemi nascono quando si affrontano i dettagli come concili libertà e eguaglianza come realizzi la fraternità fra ricchi e poveri e a livello delle politiche concrete che il pragmatismo diventa necessario da astrazione come libertà eguaglianza e fraternità non è possibile dedurre una vera azione politica molto più facile immaginare interventi limitati in comunità mosse da ideali comuni senza fissare fondamenti sociali universali ed eterni bene tutto questo tanto per fare in sintesi perché ormai la seconda parte della trasmissione magia stragoneria paganesimo sta volgendo verso la fine è questo più aumenta la libertà dell'uomo di affrontare il mondo che ci circonda di penetrarlo di costruirsi la propria idea del mondo di afferrare gli strumenti con cui penetrare il mondo e più la verità dogmatica violentemente che viene imposta attraverso la violenza della chiesa cattolica arretra sparisce ha paura scappa si ritira dimostra ciò che è un mostro che vuole divorare l'anima delle persone la psiche delle persone c'è un articolo di questa settimana sull'Espresso è un'intervista che credo che il giornalista schiameriva fa al rabbino di Roma trovate a pagina 56 perché non ce l'ho qui l'articolo però mi ricordo il particolare e a un certo punto vi riporto a memoria l'intervistatore chiede al rabbino capo di Roma che sta intervistando ma secondo alcuni lo scontro che è in corso oggi come oggi è uno scontro fra religioni monoteiste e politeismo perché sembra che le religioni monoteiste abbiano risolto le loro contraddizioni bene lo scontro in realtà è solo fra religioni monoteiste da una parte Islam cattolicesimo ebraismo e politeismo dall'altra parte e paganesimo politeista questo è il vero nocciolo dello scontro di oggi chiaramente il rabbino poi risponde per i fatti suoi perché il rabbino in quanto legato a Israele ha il pallino degli ebrei e dei musulmani per cui poi sono quelli sono affari suoi però quello che è importante è la percezione che ha il giornalista cioè il fatto che a livello giornalistico ma a livello culturale si sa perfettamente che lo scontro per la vita lo scontro per il futuro lo scontro per la libertà nel sistema sociale in cui viviamo è fra monoteismo cattolicesimo islam e ebraismo che sono perfettamente d'accordo a livello mondiale sulla repressione sulla distruzione dell'uomo sulla costruzione dell'uomo in ginocchio e il paganesimo che è l'unica forma al di là poi di come si riproduce nelle varie culture portatrice di libertà dell'uomo chiaramente dopo si tratterà di vedere come pragmaticamente si riuscirà a costruire questo però una cosa è certa cristianesimo cattolicesimo in particolare che viviamo noi islam ed ebraismo sono religioni portatrice di morte di distruzione dell'uomo questo è sodato il resto il paganesimo politeista sarà ciò che sarà in grado di costruire sarà ciò che saremo in grado di costruire perché questo in realtà è il futuro se non ci credete della frase la trovate sull'espresso di questa settimana a pagina 56 e fa parte della domanda dell'intervistatore al rabbino capo di Roma non credo di sbagliare molto anche se vado un pochino a memoria bene allora lo scontro che è in atto in questo momento è fra chiamiamo così relativismo e assolutismo dove assolutista sono le religioni rivelate cioè quelle religioni che hanno un dogma di verità al centro della propria modo di essere della propria religione della propria ideologia chiamatela come volete i dogmi di verità hanno la funzione di piegare a loro stessi la capacità dell'uomo la capacità degli individui di andare a cercarsi le cose le soluzioni nella vita nella vita quotidiana cioè hanno la capacità di distruggere le possibilità di dilattazione dell'individuo dal punto di vista della stragoneria il dogma di verità è colui che uccide la capacità dell'uomo di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso il dogma di verità è quello che impedisce all'intuizione a parte interna del cervello di uscire verso la corteccia cerebrale far diventare parte dell'azione il dogma di verità è quello che cambia l'energia vitale dell'individuo dell'energia vitale che tenta di espandersi nella vita nella quotidianità all'energia vitale stagnata che poi gli spiriti neri si cibano cioè il dogma di verità è il momento attraverso il quale si distrugge il divenire degli esseri umani e solo degli esseri umani non della natura che poi gli esseri umani sa che gira la natura beh questo è un'altra questione questo appartiene a un altro modo di essere e a altri livelli di scontro pertanto questo è ciò che sta facendo Ratzinger Ratzinger sta preparando un assalto un assalto violentissimo alla società civile sono delle altre informazioni che uscivano che uscivano a proposito di Ratzinger per esempio era venuta fuori l'informazione che inglesi a caccia di trascorsi nazi stampa tedesca riteneva ciò un insulto perché tutti i ragazzi tedeschi diciamo il passato di Ratzinger nella gioventù italiana fa scoppiare una lite fra Germania e Inghilterra nel senso che tutti i ragazzi di quell'età dovevano essere nazisti erano nella gioventù italiana ora il problema vero è un altro è vero questo però è altrettanto vero che non ha cambiato mestiere cioè non è che ha condannato il nazismo non è che ha detto io sono stato costretto per vivere là dentro e non lo ha fatto e quando lo ha fatto lo ha fatto riaffermando i principi cristiani ma i principi cristiani sono principi nazisti questo lo dice uno che è stato a sinistra cioè praticamente chi legge da sinistra quelli che sono i principi nazisti poi magari qualcuno dirà no non è vero perché il nazismo è un'altra roba beh quello è sempre discutibile sto parlando di cosa pensa uno di sinistra del nazismo il nazismo e il cristianesimo sono esattamente la stessa identica cosa pertanto non ha cambiato non ha cambiato modo di essere ha semplicemente messo un vestito diverso da quello che aveva cioè da giovane aveva un vestito e da grande ne ha messo un altro ma i principi che ha sviluppato sono esattamente uguali cristianesimo e nazismo sono la stessa identica cosa bene visto che ho mezzo minuto di tempo do via le telefonate 049-700-700 049-700-800-800 se qualcuno vuole telefonare sa che ha meno di mezzo minuto di tempo prima che butto giù il telefono ricordo i numeri e gli appuntamenti e sabato 14 maggio alle ore 20 e 30 ci ritroviamo qui in sala dibattiti Radio Gamma 5 per il dibattito su il croce allo stravone pronto ciao bellissima anche stasera niente vuoi solo se lo sei udate grazie ottimo bene ciao a te l'espresso pagina 56 ha letto ecco va bene ciao ciao allora non prendo più telefonate vi ricordo che sabato 14 14 maggio ci troviamo qui alle ore 20 e 30 ci ritroviamo a Radio Gamma 5 via Belzoni 9 per il dibattito sullo scetticismo scetticismo che è una tecnica con cui vivere ed affrontare la vita sociale questa sarebbe la seconda tecnica interna del mondo sociale sabato 18 giugno pomeriggio ci ritroviamo tutti a Jesero presso il Bosco Sacro per il rito del sostizio d'estate boh io chiudo qui chiudo qui la trasmissione magia stragonaria paganesimo vi do appuntamento per giovedì prossimo e giovedì prossimo parleremo di qualcos'altro bene ciao a tutti e a risentirci